Qual è la differenza tra Shiva e Buddha? Non è una domanda appropriata. Quale aspetto di Shiva ha esplorato Buddha? Esplorò il cammino della consapevolezza? Che è un aspetto? È molto unidimensionale, ma l'importanza di Gautama Buddha è molto scientifico, clinico, piace alla mente logica. Ma lui è come... Stava anche seduto così. Molte volte era un asceta. Stava seduto immobile e basta. Ma molte volte era un ubriaco, matto, che danzava. Era in ogni tipo di stato, perché non si limitava a nessuna dimensione particolare. Esplorò semplicemente ogni aspetto della vita. Ma purtroppo... Io sento sempre fortemente... Questo è un essere che non è stato sufficientemente riconosciuto per il lavoro che ha fatto. Non come un Dio, per il lavoro che ha fatto, per il sapere che ha diffuso, per le capacità e il potenziamento che ha dato all'umanità. Il lavoro che ha fatto sulla consapevolezza umana. Per questo non è stato sufficientemente riconosciuto. E' uno dei miei desideri che... Nei prossimi cento anni, questo essere debba trovare più riconoscimento. Perché ciò che ha fatto... Nessun altro essere lo ha fatto su questo pianeta. Nessun altro. Ho avuto il piacere di essere il suo partner. E conosco la profondità e la dimensione del suo lavoro. E non ha trovato... Neanche un frammento del riconoscimento che merita. Dire semplicemente che qualcuno è un Dio... Non va bene. Come essere. Il lavoro che ha fatto. Deve essere riconosciuto per quello. Generalmente si crede... Che fu tra i 40 e i 60 mila anni fa che iniziò il suo lavoro. Ma dopo 60 mila o 40 mila anni... E' ancora vivo. Non puoi ucciderlo. Ancora non puoi ucciderlo. Non è così. Quando avrò finito la mia vita... Sono sicuro... Che lo lascerò un po' più popolare di come oggi. E' anti-yogi. E' anti-yogi.